Adriano De Maio si è esposto rispetto alle prospettive di due conduttori di punta dell'azienda di Viale Mazzini. Adriano De Maio, vice direttore del Daytime della Rai, è stato intervistato nelle scorse ore da Fampash. Al noto sito, uno dei più importanti vertici Rai, ha potuto fare il punto della situazione riguardo ai recenti sconvolgimenti, che hanno interessato l'azienda di Viale Mazzini, con particolare riferimento all'addio di Fazio Fazio, ma non solo, ovviamente. Punto. Già, perché oltre all'imminente chiusura di che tempo che fa e all'abbandono del volto che per 40 anni ha lavorato in Rai c'è molto altro in ballo. Proprio di recente, l'ex amministratore Carlo Fuortes ha rassegnato le dimissioni da amministratore delegato, rapidamente sostituito da Roberto Sergio. Sembra insomma che l'azienda, nel pieno del periodo, Meloniano, abbia in serbo per i telespettatori tante novità. De Maio, dunque, ha avuto occasione di parlare degli ultimi stravolgimenti, riferendosi in modo specifico anche a volti noti come Mara Venier, e Stefano De Martino. Partendo prima di tutto da Fabio Fazio, quando gli è stato chiesto se il suo passaggio a nove avrebbe potuto avere qualche ragione di tipo politico, il vice direttore del Daytime Rai, ha semplicemente glissato, limitandosi a dichiarare, se lui ha detto che è stata una sua scelta perché non dovremmo credere che sia così. Quando poi gli è stato chiesto che senso avesse per l'azienda perdere uno dei suoi cavalli di punta, De Maio ha aggiunto. In oltre trent'anni in Rai, ho visto tante uscite, come entrate. Santoro ad esempio è andato via, poi è tornato, lo stesso Giletti lo ha fatto, nonostante la sua domenica avesse un grande successo. Ci sono state anche cacciate vere, come quella di Enzo Biagi. Il meccanismo della TV è questo e, seppur viziato, permette un'evoluzione. Il cambiamento consente di creare degli spazi, di capire se abbiamo sbagliato qualcosa. Rimescolare le carte non è necessariamente sbagliato. Ora certamente occorrerà inserire qualcos'altro al posto del programma di Fazio, sarà l'occasione per sperimentare. I palinsesti non devono restare granitici. Sicuramente è una perdita per la Rai, ma più per il personaggio Fazio che per il programma in sé.